incontro di lezioni d'Europa. Mi ascoltate bene? Anche quest'oggi abbiamo iniziato con una canzone. Il titolo è ben contestualizzato nell'argomento che verrà oggi trattato, cioè un'attenta ricerca nella scelta delle canzoni. L'idea della canzone sia per dare modo agli utenti di connettersi e quindi dare un pochino qualche minuto di spazio, ma poi anche per rompere l'attenzione dei webinar che iniziano sempre con un buongiorno a tutti, salute a tutti. In questo modo si alza minimamente l'attenzione. Io ringrazio tutti gli utenti che si sono connessi e che si stanno connettendo e i miei colleghi con cui ho organizzato lezioni d'Europa e la relatrice di quest'oggi che è Claudia Salvi, che è la coordinatrice del Centro Europa d'Alet Roma Innovazione. Bene, condivido subito il mio schermo. Lezioni d'Europa. Siamo arrivati al decimo anno. Il format è stato ideato dall'Università di Siena, Europe Direct Siena, e quest'anno il partenariato si è allargato. Io sono una dei nuovi partner e referente del Centro Europa Direct dell'Università di Chieti. Un fulcro operativo è Europa Direct Roma Innovazione presso il Formez PA. C'è il Centro Europa Direct Consorzio Universitario di Trapani Sicilia e il Centro Europa Direct della provincia di Verona. Gli Europa Direct si avvalgono anche dell'attività di supporto alla comunicazione e dissemiazione insieme alla Regione Lazio, Direzione Programmazione Economica Ufficio Europa, a cui poi passerò la parola al responsabile Maurizio Sabatini per un indirizzo di saluto. Collaborano anche il Dipartimento Programmazione Regione Sicilia, Servizio Uno Comunicazione, l'Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici della Regione Sicilia, l'Università degli Studi di Palermo e la Politeia, che è un'associazione privata senza scopo di lucro che è costituita da studiosi di diversa formazione. Lezioni d'Europa al suo decimo anno prevede nove webinar che saranno organizzati dal 2 marzo, quindi la prima lezione si è tenuta la settimana scorsa, fino al 18 maggio e verranno trattati quelli che sono attualmente i tremi principali dell'Unione Europea, quindi la comunità politica europea, la cittadinanza europea, l'uguaglianza ai diritti e ai valori, il Patto Europeo per il Clima, i giovani e nuovi fabbisogni di competenze, questo è l'anno europeo delle competenze, e poi i finanziamenti europei, di cui tratteremo in più webinar. I webinar, quindi queste lezioni d'Europa, sono rivolti a tutta la cittadinanza, alle associazioni, agli enti pubblici, alle proloco, agli istituti scolastici di ogni ordine e grado, ma anche agli studenti universitari, ai singoli dipartimenti, quindi coloro che sono interessati andando sui siti sia del Formezpia, sia sui siti degli Europe Direct che hanno organizzato queste lezioni, possono iscriversi alle singole iniziative, ai singoli webinar, magari se ce n'è uno di cui sono particolarmente interessati, altrimenti possono tranquillamente partecipare a tutti i webinar, semplicemente per anche informarsi, e questo è un consiglio che noi diamo, anche se una persona non è interessata all'argomento, però partecipare potrebbe comunque stimolare la curiosità e anche informarsi totalmente perché i docenti, i relatori che prenderanno parte a questo ciclo di lezioni sono particolarmente esperti, per cui imparare è sempre buono. Alla fine gli istituti scolastici possono partecipare anche durante l'orario scolastico e quindi connettersi anche semplicemente con la con la classe o a nome del eh responsabile, del professore, però eh per poter ricevere l'attestato di partecipazione chiediamo di inviare una mail a europodiretchioccialaformez.it per indicarci il numero eh degli studenti partecipanti. Eh l'attestato di iscrizione eh viene eh invia lo lo potete scaricare direttamente nel sito del Formez una settimana dopo che è concluso il webinar perché vi verrà inviata da parte dello staff Formez un questionario di valutazione sul webinar eh una volta rimandati indietro ehm dati tempi tecnici potete scaricare il certificato eh l'attestato di iscrizione. Queste sono le lezioni, le nuove lezioni che sono state organizzate. La prima si è tenuta la settimana scorsa da tenuta da professor Pasquinucci dell'Università di Siena e quindi abbiamo parlato alla comunità politica europea, diciamo un'introduzione in generale. Quella di oggi già scendiamo un pochino più nell'approfondimento. Quindi i nuovi fondi europei duemilaventuno e duemilaventisette. Come e dove informarsi? Quindi eh la collega Claudia Salvi ci parlerà della differenza tra fondi strutturali e di investimento europeo. Eh fornirà quelli che sono gli strumenti diretti offerti dall'Unione Europea. Quindi presenterà i maggiori portali di informazione. Quindi un aggiornamento sui finanziamenti, sui fondi europei. Ma poi come potete leggere sia da questa slide che è presente sul sito Forma XPA ma sia dai titoli dei singoli eventi verranno trattati argomenti differenti. Quindi Erasmus per le scuole, ma patto europeo per il clima, finanziamento europeo nel settore digitale, questo è l'anno della digitale, il decennio della digitalizzazione. Quindi è importantissimo anche questa ehm questo argomento. Poi nell'ultima lezione scenderemo più nello specifico con una webinar sull'euro progettazione. Quindi programmi, progetti e proprio la rendicontazione. Questi sono i link per iscriversi trovati anche sul sito di Forma XPA. La collaborazione tra questi Europe Direct in lezioni d'Europa prosegue anche per altri due cicli di incontri. Quello successivo sarà realizzato nel mese di maggio. Quindi il tre, il dieci, il diciassette, il ventiquattro e il trentuno. Eh non è importante ricordare il numero eh quanto il giorno. Quindi ogni mercoledì del mese di maggio sappiate che collegandovi sul sito di Forma XPA, iscrivendovi sul sito di Forma XPA, vi verrà mandato un link per partecipare a questo webinar che è sempre realizzato da noi partner Europe Direct Roma Innovazione, Siena, Trapani Sicilia, Chieti e Verona. Però ci avvaliamo della eh collaborazione fondamentale dell'Associazione Italiana della Comunicazione Pubblica e Istituzionale di cui Marco Magheri è segretario generale. Eh gli incontri eh principalmente verranno tenuti in presenza. Quindi a Chieti, a Siena, a Trapani, a Verona e a Roma. In presenza ma è possibile anche partecipare eh a distanza. Essi sono eh indirizzati alla cittadinanza tutta, agli istituti scolastici, alle alle università, ai docenti, agli enti pubblici ma eh principalmente abbiamo coinvolto l'ordine dei giornalisti delle singole eh regioni perché i giornalisti possano, giornalisti e comunicatori pubblici possano eh ricevere eh dei crediti formativi utili alla loro formazione partecipando a questi incontri. Eh inizieremo con l'incontro di Chieti. L'ordine dei giornalisti della regione Abruzzo eh esige che la formazione dei giornalisti sia fatta in presenza. Per cui per ottenere crediti formativi occorre venire per sul campus di Chieti e partecipare in presenza. Ma sia a Trapani che a Roma eh l'ordine dei giornalisti, dei giornalisti in Sicilia eh permettono eh la partecipazione anche online e quindi ricevere crediti formativi anche partecipando online. ehm le informazioni inerenti a questi incontri sono già presenti sul sito di Formex FIA. Quindi potete andare tranquillamente. Eh invece in autunno organizzeremo un altro ciclo di incontri sul piano europeo di lotta contro il cancro per informare e formare i cittadini e gli studenti su come prevenire il cancro al seno e al colmone. Qui si uniscono altri Europe Direct nella ehm nell'elaborazione del ciclo. Quindi sia Venezia che eh Nuoro. Eh stabiliremo a breve le date e ve le comunicheremo. Questo eh questi sono i contatti del centro di informazione Europe Direct Chieti che è gestito dall'università degli studi Gabriele D'Annunzio di Chieti Pescara di cui io sono uno referente. Eh ogni centro unitamente agli altri organizza dei cicli di formazione ma poi singolarmente eh organizza delle giornate formative o comunque di infoformazione rivolte al proprio territorio. Ad esempio abbiamo organizzato come Centro Europa delle Chieti il ventinove marzo eh presso il campus di Chieti un incontro dal titolo il privato sociale si organizza competenze sociologiche politiche sociali e management dell'Unione Europea per promuovere la competitività la partecipazione del talento e supportare la funzione operativa della formazione. Eh abbiamo diversi incontri con gli istituti scolastici del territorio non solo di Chieti, Pescara ma di tutto il territorio della regione Abruzzo per fornire ehm informazione per dare per fare infoformazione su quelle che sono eh le ehm diciamo le competenze specifiche dell'Unione Europea. Già sono eh stabilite delle date per cui se ci sono altri istituti scolastici in ascolto possono tranquillamente eh contattarci. l'Europa delle Chieti è di supporto anche eh nel realizzazione del progetto ASOC a scuola di open coesione che è un progetto di monitoraggio eh del delle politiche di coesione da parte degli studenti eh degli istituti scolastici. Eh stiamo organizzando la festa dell'Europa sul tema principale della digitalizzazione per il nove maggio a vasto ma anche il cinque maggio ci sarà una tappa del Giro d'Italia che partirà proprio da Fossa Cesia che è sulla costa dei Trabocchi per cui verrà organizzato un eh evento in collaborazione con la Commissione Europea eh sullo sport in Europa. Eh queste sono soltanto le iniziative in programma nel nella primavera e poi eh seguiranno quelle autunnali per cui potete tranquillamente contattarci ai nostri recapiti eh in modo da avere eh chiara eh tutta la nostra programmazione. Allora entriamo subito nel vivo della della lezione d'Europa di quest'oggi e eh passo la parola a Maurizio Sabatini che è responsabile degli uffici Europa della regione Lazio per un breve indirizzo di saluto. Buongiorno grazie Anna Lisa buongiorno a tutti ringrazio la dottoressa Michetti ringrazio la dottoressa Salvi e ringrazio i partner di questa di questa importante serie di lezioni durante le quali verranno illustrati gli strumenti che la Commissione Europea mette in campo ed offre a tutti noi cittadini. Io sono Maurizio Sabatini, sono responsabile del servizio Ufficio Europa della regione Lazio e questa nuova collaborazione e questi momenti formativi li abbiamo immediatamente raccolti perché riteniamo che avvicinare i cittadini, le imprese, gli enti pubblici, i giovani e l'opportunità che l'Europa mette a disposizione sia un momento di crescita culturale. Pensiamo che sviluppare una sensibilità verso quello che è il mondo Europa, essere cittadini europei, sia uno simolo essenziale per tutti i territori. Molte volte sentiamo parlare dell'assenza dell'informazione, molte volte sentiamo parlare della carenza della comunicazione sui territori. Quindi riteniamo che queste elezioni d'Europa come regione, come servizio Ufficio Europa, sia una finestra aperta verso quello che sono i programmi comunitari, verso i loro tecnicismi che sono importanti, che poi c'è la rendicontazione come ha segnalato la dottoressa Michetti e durante queste elezioni speriamo di poter creare veramente una cultura da poter spendere sui territori nazionali, su tutto il territorio nazionale. Questa mattina, se non sbaglio, parleremo dei luoghi come chiamiamo noi, dei canali informativi che esistono, sono trasparenti, sono puntuali, ma spesso sono distanti dal territorio. Noi in Servizio Europa abbiamo una struttura che è molto presente sul territorio del Lazio. Quindi, senza farvi perdere tempo, il suggerimento è quello di stare attenti a tutto quello che viene pubblicato, capire che noi siamo cittadini europei, trovare un fabbisogno, parlarne, creare rete con gli altri, sviluppare un'idea a quattro, sei, otto mani per disporre un'attività, perché queste sono le attività propedeutiche a tutto quello che vedremo nelle elezioni successive, in tutto quello che sono i programmi e l'opportunità. Quindi io sono veramente felice di poter far parte di questa squadra, continueremo con Regione a supportare il Formez e la rete, vi auguro un buon lavoro, mi scuso per il tempo, sono cercato di essere più breve che sia possibile e ringrazio tutti i partecipanti e vi auguro un buon lavoro. Grazie. Grazie, grazie dottor Zapatini. Passiamo subito al Soto. Purtroppo gli indirizzi di salute sono sempre ben accetti, non ci dilunghiamo, ma semplicemente forniamo delle informazioni sui prossimi webinar. Passo subito la parola a Claudia Salvi, che è la coordinatrice del Centro Europe Direct Roma Innovazione, per il suo intervento che è il clou di oggi, i nuovi fondi europei 2021-2027, come e dove informarsi. Grazie, Annalisa, vi posso chiedere, conferma, mi vedete, mi sentite? Sì, sì, Claudia. E vedete anche le slide? Tutto? Sì. Perfetto, allora vi ringrazio, buongiorno, so che siete impazienti di cominciare, però è necessario fare alcune premesse per cercare di contestualizzare queste lezioni d'Europa. Di che cosa parliamo oggi? E l'avete visto già nel video musicale, in realtà parliamo di fondi europei, però più da un punto di vista di informazione, perché da quando abbiamo aperto lo sportello Europe Direct, in realtà le domande che ci vengono indirizzate dagli utenti riguardano quasi sempre i finanziamenti e abbiamo anche notato che dal tipo di domande che riceviamo c'è moltissima confusione. Quindi ogni anno noi proponiamo questa lezione proprio per cercare di fare chiarezza sui vari tipi di finanziamenti europei, come si utilizzano e dove si trovano le informazioni relativi a questi finanziamenti. Quindi di cosa parliamo oggi? Innanzitutto vediamo quali sono le priorità della Commissione europea per il periodo 2019-2024. Poi parleremo della differenza tra i vari fondi, quindi cosa sono i fondi diretti, come si usano, quando si usano, i fondi indiretti, i cosiddetti fondi strutturali, che sono poi fondi che passano attraverso le regioni e di qui anche la collaborazione con la regione siciliana e con la regione Lazio in questo ciclo di incontri, perché poi nel momento in cui avete bisogno di informazioni sul territorio e a loro che dovete rivolgervi per ulteriori informazioni. E poi appunto parleremo un po' di come si utilizzano questi fondi, tenendo presente che in questo webinar è strettamente collegato all'ultimo webinar dove si parlerà di europrogettazione, cioè come si prepara una proposta di progetto che deve essere finanziata dalla Commissione Europea. E di questo ne parlerà la mia collega Raffaella Scordino nell'ultima puntata delle lezioni di Europa che si terrà sia online, attraverso appunto questa piattaforma, che in presenza presso l'Università di Trapani. E poi parleremo di dove troviamo l'informazione, quindi faremo un po' un viaggio attraverso i siti italiani e europei che danno informazioni sui bandi e sui finanziamenti. Facciamo un passo indietro perché se non contestualizziamo non riusciamo a capire perché nascono poi i finanziamenti. Nel luglio del 2019 la Commissione Europea pubblica gli orientamenti politici per il nuovo periodo di programmazione, ma in particolare per il periodo 2019-2024. Ci sono alcuni capisaldi che vengono enunciati in questo documento. Innanzitutto che ci doveva essere un collegio composto in parti uguali sia da uomini che da donne, che ci sarebbe stato un grande impulso su quello che viene definito il Green Deal europeo, che sarebbe stata organizzata una conferenza sul futuro dell'Europa che si è conclusa in realtà a maggio dello scorso anno, ma che in realtà in cui il vero lavoro terminerà entro il 2024. Così come ci sarebbe stato, sono state enunciate 10.000 guardie di frontiere e guardie costiere europee, così come un altro principio che doveva essere garantito era quello di avere un salario minimo equo per ogni lavoratore. E principalmente il grande obiettivo che intende raggiungere l'Unione Europea è quello di diventare il primo continente al mondo a impatto climatico zero e questo dovrebbe avvenire entro il 2050. Quindi in realtà le priorità della Commissione Europea possono essere riassunte in sei e si basano essenzialmente appunto sul Green Deal europeo di cui abbiamo appena parlato, principalmente anche di un'Europa che deve essere sempre più pronta per l'era digitale e quindi è stata elaborata una strategia digitale che dovrebbe dotare i cittadini di competenze inerenti a una nuova generazione di tecnologie. In più un altro dei principi, delle priorità sarà quello di creare un'economia che sia sempre di più al servizio delle persone, questo per cercare di creare degli ambienti che possano essere più attraenti per gli investimenti e anche una crescita per offrire lavori di qualità, in particolare per i giovani ma anche per le piccole e medie imprese. Un altro dei principi che sono stati enunciati è di avere un'Europa che deve essere sempre più forte nel mondo, che quindi deve poter parlare in maniera forte cercando di promuovere il multilateralismo e anche un ordine mondiale che si è basato su delle regole. In più un altro dei capisaldi è quella della promozione dello stile di vita europeo, stile di vita che va inteso come tutela dello Stato di diritto per difendere quelli che sono i valori di giustizia e anche i valori fondamentali dell'Unione Europea. In più uno nuovo slancio per la democrazia europea per cercare di dare più voce ai cittadini europei, proteggere così la nostra democrazia da interferenze esterne nei quali possono essere la disinformazione e i messaggi di odio online. E di cui poi si collega anche l'idea di elaborare di quel ciclo di contrasto alle fake news di cui vi ha parlato Annalisa Michetti, va proprio in questa direzione, cioè nel cercare di dare un contributo attraverso l'intervento di esperti a questo, diciamo, per contrastare la disinformazione. All'interno di queste priorità due sono le super priorità, chiamiamole così, che sono appunto i due assi portanti nella duplice transizione. Quindi da una parte è la transizione verde, oppure appunto nota come la transizione ecologica che corrisponde alla priorità uno, che è quella del green deal europeo, e in più la transizione digitale che corrisponde alla priorità due e quindi a un'era pronta per l'era digitale. E qui, diciamo, per poter, nell'elenco che avete visto degli argomenti che andremo a trattare nei prossimi webinar, ci saranno proprio dei webinar dedicati sia al patto europeo per il clima, che appunto vuole rispondere alla priorità uno, ma parleremo anche di finanziamenti europei nell'era del digitale, proprio per rispondere a questa esigenza della priorità due, cioè di avere un'Europa sempre più pronta per l'Europa digitale. Vediamo ora quali sono le principali opzioni del green deal europeo, che ha come obiettivo quello della promozione della transizione verde. Innanzitutto l'Unione Europea ha deciso di elaborare una legge europea sul clima, appunto per poter arrivare a questo obiettivo del raggiungimento della neutralità climatica entro il 2050. Un altro, diciamo, delle azioni della Commissione Europea è quella di aver dato un contributo alla conferenza dell'ONU di Glasgow sul clima, che come sapete è stata rinviata di un anno a causa del Covid e che è stata organizzata dal Regno Unito in collaborazione con il nostro paese. Altro principio chiave è quello della decarbonizzazione dell'energia, così come sarà elaborato un nuovo piano d'azione per l'economia circolare, così come verrà in fase di elaborazione la strategia dell'Unione Europea sulla biodiversità, che questa dovrebbe completarsi per il 2030, così come verrà anche elaborato tutto un piano di investimenti nel settore del Green Deal europeo. Altri obiettivi sono quella di una strategia rinnovata in materia di finanza sostenibile, la strategia per una mobilità sostenibile e intelligente, e in questo contesto il 2021 fu designato come Anno Europeo delle Ferrovie, in quanto è stato individuato nel treno, diciamo il mezzo di trasporto chiave per poter raggiungere quelli che sono gli obiettivi della mobilità sostenibile. E noi proprio come partner delle elezioni d'Europa abbiamo proprio dedicato una puntata all'anno europeo delle ferrovie, dove appunto abbiamo un po' esaminato come le ferrovie possano dare un contributo al raggiungimento degli obiettivi in tema di ambiente. Per quanto riguarda invece la transizione digitale, le principali azioni che sono previste è una strategia europea in materia di dati, ci sarà un nuovo approccio europeo a quelle che sono le tematiche inerenti all'intelligenza artificiale, verrà elaborata una legge per la regolamentazione dei servizi digitali, così come tutto il rafforzamento delle tematiche che riguardano la cibersicurezza, così come si punterà molto sul digitale che deve essere sempre più al servizio dei consumatori, così come verrà elaborata una nuova strategia industriale per l'Europa e si cercherà di ampliare quanto più possibile lo spazio europeo della ricerca, così come un'altra tematica che farà parte di questa transizione digitale e quella della finanza digitale. Chiedo scusa, sono andata troppo avanti. Come sapete, mentre si lavorava l'elaborazione di queste strategie, abbiamo avuto un evento che non ci aspettavamo, quindi siamo entrati in piena nel marzo 2020, in piena emergenza Covid, che ha mandato un po' in crisi quelle che erano le economie di tutti i paesi. Diciamo che il 27 maggio la Commissione europea ha proposto un bilancio rafforzato per cercare di far fronte a tutte quelle ripercussioni economiche che l'emergenza coronavirus aveva in realtà proiettato in Europa. Le proposte si sono concretizzate in una serie di strumenti che uno appunto è nota come il Next Generation EU, che è stato uno strumento di emergenza di 750 miliardi di euro per potenziare temporaneamente quella che era la capacità finanziaria del bilancio dell'Unione europea grazie a dei fondi che sono stati raccolti sui mercati finanziari. Questi fondi raccolti sono stati poi convogliati attraverso i diversi programmi dell'Unione europea e hanno cercato di ancora sostengono quelle che sono state le misure urgenti indispensabili per proteggere i mezzi di sussistenza, di mettere in sesto l'economia europea e quindi anche cercare di favorire una crescita sostenibile e resiliente. In concomitanza è stato poi elaborato il quadro finanziario pluriennale per il 2021-2027 che in questo caso è stato anche rinforzato che ha cercato di orientare in maniera veloce gli investimenti là dove si sono resi più necessari cercando di rafforzare il mercato unico, intensificare la cooperazione in alcuni settori che sono appunto stati quelli della salute che è chiaramente diventata la priorità di questo periodo ma anche la gestione delle crisi e cercare così di dotare l'Unione europea di un bilancio a lungo termine che possa poi consentirle di attuare queste transizioni verso il verde ed il digitale e costruire così un'economia sempre più solita che sia anche più residente quindi in grado di adattarsi alle nuove esigenze qualora queste emergano. Quindi per il 2021-2027 abbiamo avuto l'adozione del quadro finanziario pluriennale che appunto è uno strumento di pianificazione delle risorse economiche dell'Unione europea che viene attuato su un periodo di sette anni. Le risorse del quadro finanziario pluriennale vengono organizzate per fondi che hanno delle missioni specifiche come quello del Fondo Sociale Europeo, il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale ma anche altri fondi come per esempio i fondi dei programmi tematici. Non vi spaventate relativamente a questa terminologia perché ora man mano che andiamo avanti nella presentazione cercheremo di spiegare la differenza tra questi fondi e quando si usano gli uni e quando appunto gli altri. Innanzitutto vediamo un po' come verranno spesi questi fondi. Innanzitutto per rafforzare la coesione ma anche la ripresa economica di tutti i paesi dell'Unione europea. Principalmente i fondi vengono utilizzati e qui mi riferisco in particolare ai fondi strutturali per ridurre i divari economici che esistono tra i diversi territori e regioni dell'Unione europea. Una parte del budget viene utilizzato per il miglioramento dell'occupazione e dell'inclusione sociale ma anche per il miglioramento dei sistemi sanitari. Così come diciamo delle risorse abbastanza importanti sono state destinate alla capacità di rispondere dell'Unione europea di fronte alle crisi e alle nuove minacce. E questo essenzialmente si è concretizzato attraverso questo strumento di protezione civile che si chiama RESC-EU. Come sempre parte dei fondi sono stati destinati alla PAC quindi alla politica agricola comune così come è stato istituito un nuovo fondo per la transizione giusta per favorire tutte quelle che sono le azioni nell'ambito della transizione ambientale. Una parte dei fondi invece è stata destinata ai flussi migratori. come sempre una parte dei fondi viene destinata anche a quelle che sono le azioni di politica esterna quindi alle azioni di cooperazione con i paesi del vicinato ma anche con i paesi che hanno fatto richiesta di adessione all'Unione europea così come una parte consistente di questi fondi viene anche destinato agli aiuti umanitari. Tenete presente che l'Unione europea è considerato il più grande donatore al mondo per quanto riguarda gli aiuti umanitari. Ancora fondi saranno di stati destinati per la difesa europea così come alle misure di contrasto alla criminalità e al terrorismo e poi chiaramente c'è una parte di fondi che viene destinato proprio al funzionamento delle istituzioni europee ma contrariamente a quello che possiamo pensare i fondi destinati al funzionamento delle istituzioni in realtà occupano soltanto una piccola parte dei finanziamenti. Ora i fondi del quadro finanziario pluriannale finanziano programmi di intervento che hanno degli obiettivi precisi di sviluppo quindi abbiamo quelli che noi conosciamo come fondi strutturali o meglio noti anche come gestione concorrente questi si riferiscono spesso ad ambiti di intervento si riferiscono a più ambiti di intervento e spesso hanno anche una connotazione geografica perché come vi dicevo prima i fondi partono da Bruxelles ma poi vengono gestiti a livello nazionale o dai ministeri e quindi avremo i programmi operativi nazionali oppure dalle regioni e avremo i programmi operativi regionali i fondi una volta che vengono concordati e perciò si parla di gestione concorrente perché proprio fanno parte di una contrattazione tra la commissione europea e i singoli stati membri o le singole regioni una volta che i fondi vengono destinati al paese poi è il paese che li gestisce e quindi si occupa di pubblicare i bandi fare la selezione dei progetti e quindi occuparsi di tutte quelle della gestione concreta del finanziamento un discorso a parte lo dobbiamo fare per i finanziamenti diretti che sono anche noti come programmi tematici che forse voi conoscete meglio con il nome del programma Life il programma Erasmus questo fanno parte di un altro tipo di finanziamenti in quanto vengono erogati direttamente dalle direzioni generali della commissione a Bruxelles e quindi non c'è più l'elemento nazionale che fa da filtro ovvero in alcuni casi come per esempio nel caso del programma Life ci possono essere dei punti di contatto nazionale che non solo si occupano di dare l'informazione la prima informazione al pubblico e chiaramente anche in lingua italiana ma in alcuni casi come nel programma Life si occupano anche di fare una prima selezione delle proposte di progetto che vengono presentate che poi comunque vengono trasmesse a Bruxelles ma sarà sempre Bruxelles a decidere poi quali sono i progetti che devono essere finanziati di questo gruppo di finanziamenti diretti fanno parte anche gli strumenti finanziari per l'assistenza esterna che come dicevamo prima sono quei finanziamenti che vengono destinati dall'Europa per collaborare con i paesi che sono al di là delle frontiere dell'Unione Europea quindi per quanto riguarda i programmi comunitari lo abbiamo detto poc'anzi abbiamo questa gestione si parla di risorse che vengono gestite direttamente appunto perché il trasferimento dei fondi non avviene attraverso ulteriori passaggi della Commissione Europea ma sono gli enti le associazioni sui vari territori che fanno richiesta direttamente a Bruxelles di ricevere il finanziamento e quindi non c'è l'intermediario a livello nazionale centralmente si dice che le risorse vengono gestite centralmente perché tutte le procedure di selezione assegnazione controlli e audit vengono gestite direttamente dalla Commissione Europea c'è una caratteristica però nei programmi comunitari tematici che per poter accedere a questi finanziamenti quasi sempre bisogna creare un partenariato internazionale significa che l'Italia insieme alla Spagna insieme alla Finlandia si uniscono per presentare la proposta di progetto chiaramente ci sono delle eccezioni e le eccezioni sono appunto come i programmi live oppure il programma che vedremo la prossima settimana quello appunto il programma CERV su uguaglianza cittadinanza alcuni programmi prevedono l'eccezione cioè le proposte di progetto possono anche essere presentate a livello nazionale ma questi programmi sono molto pochi e comunque sono un'eccezione piuttosto che la regola nei programmi tematici invece per quanto riguarda la gestione indiretta i cosiddetti fondi strutturali come vi dicevo le risorse sono gestite dagli stati membri e dalle regioni ma in base a una programmazione che viene concordata tra lo stato membro e la commissione europea e successivamente deve essere anche approvata dalla commissione europea queste risorse sono rappresentate principalmente dai due fondi strutturali principali che sono il fondo europeo di sviluppo regionale e il fondo sociale europeo e anche dal fondo di coesione ma l'Italia non è interessata dal fondo di coesione i fondi strutturali non sono assegnati direttamente a progetti che vengono scelti dalla commissione europea ma la loro gestione appunto si parla di gestione concorrente è di competenza o dello stato o della regione a seconda di quella distinzione che abbiamo fatto prima cioè se si tratta di programmi nazionali oppure di programmi regionali ora vediamo un attimo i fondi strutturali e cerchiamo di approfondire un attimo questo tema vi cito un attimo l'articolo 174 del trattato dell'unione europea che cita per promuovere uno sviluppo armonioso dell'insieme dell'unione questa sviluppa e prosegue la propria azione intesa a realizzare il rafforzamento della coesione economica sociale e territoriale in particolare l'unione mirra a ridurre il divario tra i vari livelli di sviluppo delle diverse regioni e il ritardo delle regioni meno favorite quindi qual è l'obiettivo dei fondi strutturali quindi della politica di coesione quello di portare tutte le regioni europee ad uno stesso livello di sviluppo proprio per uno sviluppo armonioso dell'intero territorio europeo ora essenzialmente gli obiettivi della politica di coesione sono tre quindi si parla di politica di coesione economica che come vi dicevo prima mira a ridurre i divari di sviluppo tra le varie regioni europee e questo avviene attraverso il fondo europeo per lo sviluppo regionale che è diciamo il fondo principale di finanziamento di progetti che vanno in questa direzione un altro obiettivo invece è quello della politica di coesione sociale che vuole assicurarsi che tutti i cittadini abbiano accesso ai diritti fondamentali in materia di lavoro ma anche in materia sociale ed economica il raggiungimento degli obiettivi della politica di coesione sociale avviene essenzialmente attraverso il fondo sociale europeo e poi invece abbiamo la politica di coesione territoriale che forse voi conoscete meglio sotto il nome dei programmi Interreg questi cercano di promuovere quello che è lo sviluppo equilibrato dei territori europei cercando di favorire l'integrazione di quei territori che per posizione geografica o per caratteristiche del territorio possono essere considerate aree svantaggiate e quando parlo di aree svantaggiate possiamo riferirci per esempio alle isole oppure alle zone di confine in aree montane oppure in aree interne che sono di difficile accesso questo tipo di obiettivo cioè quello della politica di coesione territoriale viene raggiunto sempre attraverso il fondo europeo di sviluppo regionale tramite questi programmi che noi conosciamo come programmi Interreg ancora per quanto riguarda le cinque grandi politiche della politica di coesione lo sapete perché ormai se ne è parlato tanto lo ricordiamo molto velocemente gli obiettivi sono quello di cercare di avere un'Europa più intelligente cercando di favorire l'innovazione promuovere la digitalizzazione cercare di favorire la trasformazione economica e il sostegno delle piccole medie imprese come vi dicevo prima sempre più orientarsi verso un'Europa che deve diventare più verde quindi deve essere sempre più orientata ad attuare politiche che abbiano come obiettivo le basse emissioni di carbonio un altro dei principi è quello di avere un'Europa sempre più connessa e che quindi deve essere dotata di reti di trasporto e digitali strategiche ma anche un'Europa più sociale che quindi possa sostenere sempre più livelli di occupazione più alti ma anche di maggiore qualità cercando anche di puntare sul miglioramento di tutto quello che è il settore dell'istruzione e delle competenze professionali in più cercare anche di creare un'Europa che sia anche sempre più vicina ai cittadini cercando di sostenere delle strategie di coinvolgimento dei cittadini e diciamo che la conferenza sul futuro dell'Europa è andata un po' in quella direzione cioè creare un diciamo un grande momento di consultazione pubblica per cercare di capire quali sono le esigenze e gli obiettivi che hanno i cittadini relativamente a questa loro appartenenza all'Europa ora quello che vi ho fatto vedere nella slide precedente sono i principi diciamo della politica di coesione però in realtà se andiamo a vedere abbiamo anche degli strumenti tematici quindi gli strumenti diretti della Commissione Europea che possono aiutarci a raggiungere quelli che sono gli obiettivi della politica di coesione qual è la differenza che mentre diciamo noi cerchiamo attraverso i fondi strutturali di migliorare le strutture presenti sul nostro territorio in realtà poi con gli strumenti tematici noi cerchiamo di mettere in rete quello che viene poi creato a livello di territori dopo quando andremo avanti nella presentazione cerco di farvi qualche esempio banale ma che vi può dare l'idea di quando si può usare uno strumento piuttosto che un altro per esempio per quanto riguarda un'Europa più intelligente gli strumenti tematici che possono essere usati abbiamo tutti i fondi del programma Orizzonte Europa che è un programma di ricerca e sviluppo tecnologico che coinvolge tutti i settori che in qualche modo sono di interesse per le politiche europee ancora abbiamo un nuovo strumento InvestEU che questo è uno strumento finanziario che interviene attraverso l'ausilio di banche che danno dei veri e propri prestiti alle imprese per poter raggiungere quelli che sono gli obiettivi dell'Unione Europea e poi abbiamo vari strumenti tipo il meccanismo per collegare l'Europa che si occupa di reti nel settore dei trasporti del digitale e del gas abbiamo il programma Europa Digitale in cui avremo una puntata diciamo nelle prossime elezioni di Europa che ci dà un'idea di tutto quello che può essere finanziato nel settore del digitale abbiamo il programma EU4Health che è un programma di finanziamento per il settore della salute di cui parleremo probabilmente tra settembre e dicembre quando organizzeremo il webinar sul piano europeo di lotta contro il tumore appunto perché questo è uno dei programmi di finanziamento che può andare a finanziare azioni nel settore della salute poi abbiamo sempre Europa Creativa il programma Erasmus Plus tutti questi programmi che vi sto citando sono programmi che in qualche modo possono contribuire agli obiettivi di un'Europa più intelligente stessa cosa per Europa più verde qui oltre a quelli che abbiamo presentato nella slide principale precedente abbiamo il programma Life che è un po' il programma principe nel settore dell'ambiente e il programma per il mercato unico questo è un programma che va diciamo a incoraggiare gli investimenti per le piccole e medie imprese tra l'altro nell'ambito di questo programma c'è anche un finanziamento molto interessante che è l'Erasmus per giovani imprenditori che permette alle nuove aziende di andare a effettuare dei periodi di tirocini in altri paesi europei per poter imparare diciamo da aziende che hanno un'esperienza maggiore nel settore quindi anche se si chiama Erasmus in realtà non fa parte del programma Erasmus ma fa parte di questo programma per il mercato unico che è un programma che ha come destinatari essenzialmente le piccole e medie imprese per quanto riguarda Europa più connessa in realtà lo strumento tematico principi è questo meccanismo per collegare l'Europa che si occupa appunto della creazione delle reti TNT che sono appunto queste reti transeuropee per il trasporto intermodale si occupa anche di connettività digitale ma anche di mobilità urbana e di accesso alle reti in particolare per quanto riguarda la mobilità urbana il programma di riferimento può essere il programma di ricerca e sviluppo orizzonte Europa per quanto riguarda l'Europa più sociale gli strumenti sono appunto quelli di Erasmus Plus del corpo europeo di solidarietà e anche il programma diritti valori e giustizia che è il programma sul quale ci soffermeremo in maniera dettagliata il sedici marzo perché avremo come ospite il punto di contatto nazionale che ci illustrerà il programma in generale ma ci farà anche vedere qualche bando aperto per il quale è ancora possibile presentare le candidature quindi se siete interessati ad approfondire questi temi vi consiglio di seguire la puntata della prossima settimana perché potete anche rivolgere delle domande al relatore su diciamo delle azioni specifiche che vi possono interessare sarà anche presentato una buona prassi nel comune di Asti di un progetto che è stato presentato nell'ambito di questo programma che si chiama programma diritti valori e giustizia però diciamo viene conosciuto con l'acronimo CERV e poi abbiamo un ultimo appunto un altro delle priorità della commissione europea che è quella di avvicinare quanto più possibile l'Europa ai cittadini anche in questo caso i progetti che possono sostenere delle azioni sono Europa Creativa il programma Life ma anche il programma Orizzonte Europa ora quali sono i principali strumenti che utilizzano i fondi strutturali abbiamo il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale lo abbiamo visto prima il Fondo Sociale Europeo il Fondo FEAS che sarebbe il Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e anche qui le informazioni le troviamo sui siti regionali il Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e il Fondo di Coesione Europeo però come vi dicevo prima l'Italia non è interessato da questo fondo ora vediamo un attimo la differenza tra il Fondo Sociale Europeo e il Fondo di Sviluppo Regionale innanzitutto la finalità perché il Fondo Sociale Europeo si occupa di coesione sociale e quindi finanzia essenzialmente interventi in settori quali l'istruzione la formazione la crescita delle competenze l'inclusione sociale e anche la lotta alle discriminazioni invece per quanto riguarda il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale persegue gli obiettivi della coesione economica e quindi essenzialmente finanzia interventi in settori quali l'innovazione tecnologica e la ricerca scientifica investimenti in ambienti energie rinnovabili infrastrutture iniziative produttive investimenti urbani e territoriali ma anche finanzia tutti quelli che sono gli interventi in tema di valorizzazione ambientale e culturale per quanto riguarda la coesione territoriale vi dicevo che il programma di riferimento sono questi programmi interreg che vengono poi sottivisi in tre strand quindi abbiamo lo strand che si occupa di cooperazione trasfrontaliera e quindi vengono finanziati progetti che vedono come partner le regioni che hanno in comune una frontiera e quindi per esempio avremo il programma interreg Italia-Austria che permette la presentazione di proposte e di progetti tra le regioni di frontiera dell'Italia e dell'Austria invece la cooperazione trasnazionale si occupa di progetti che sono sempre tra regioni confinanti ma di aree più vaste quindi per esempio un gruppo di paesi dell'Unione Europea che collabora e presenta proposte di progetto con il gruppo dei paesi dei Balcani e poi abbiamo la cooperazione interregionale che prevede la collaborazione tra le varie regioni dell'Unione Europea però senza il vincolo della frontiera quando viene utilizzata la cooperazione interregionale la cooperazione interregionale viene utilizzata quasi sempre per lo scambio di buone prassi quindi per esempio dei progetti di cooperazione trasfrontaliera che hanno avuto dei risultati particolarmente eccellenti possono diventare l'oggetto di un progetto di cooperazione interregionale per poter poi trasmettere questi risultati oppure coinvolgere in questi risultati anche regioni che sono al di là delle frontiere quindi ancora ci sono delle novità per l'attuale periodo di programmazione per quanto riguarda la cooperazione trasfrontaliera e quindi l'istituzione di un meccanismo trasfrontaliero europeo questo meccanismo è nato in seguito ad una consultazione pubblica che la commissione europea ha fatto con i cittadini e dal quale diciamo è emerso che c'era una necessità di armonizzare gli ordinamenti giuridici diciamo per quei territori che si trovano a lavorare nei programmi interreg e quindi questo meccanismo si accopa proprio di questo cioè dell'armonizzazione dei rispettivi ordinamenti giuridici per fare in modo che le regioni possano lavorare tra di loro in maniera più proficua in più è stata promossa per l'attuale periodo di programmazione una iniziativa pilota che si chiama investimenti innovativi interregionali questa è un'azione che diciamo ha come base il fondo europeo di sviluppo regionale che è stata pensata per facilitare l'innovazione e il suo progressivo avvicinamento al mercato con il fine ultimo di sviluppare nuove catene di valore a livello europeo quindi l'obiettivo di queste di questi investimenti innovativi regionali è quello di accelerare il passaggio dell'innovazione al mercato cercando di ridurre il rischio connesso a quelli che sono in generale gli investimenti innovativi quindi le regioni che dispongono di risorse equivalenti di specializzazione intelligente ricevono un maggiore sostegno per la costituzione di alcuni cluster pan-europei che però devono operare in alcuni settori particolari che sono quelli dei big data dell'economia circolare ma anche le tecnologie produttive avanzate o la cipersicurezza per quanto riguarda i fondi strutturali questo probabilmente lo sapete le regioni europee sono state divise in tre categorie quindi ci sono le regioni meno sviluppate che sono quelle che hanno un PIL pro capite inferiore al 75% della media comunitaria poi ci sono le regioni in transizione che hanno un PIL pro capite compreso tra il 75% e il 100% della media comunitaria e le regioni più sviluppate che sono quelle che hanno un PIL pro capite superiore al 100% della media comunitaria come sapete da noi in Italia rientrano nelle regioni meno sviluppate le regioni del Sud Italia ora per ritornare di nuovo un po' alla differenza tra la gestione diretta e indiretta perché noi abbiamo attraverso appunto come vi dicevo prima le domande che riceviamo come sportello notiamo che è qui che c'è la grande confusione quando si usano l'uno e gli altri dove si trova l'informazione vi dicevo nella gestione diretta è la commissione europea che finanzia questi strumenti finanziari come Life orizzonte Europa e poi gestisce stesso lei il finanziamento questo come avviene o attraverso la propria direzione generale oppure attraverso delle agenzie delegate ma sono in ogni caso agenzie delegate dalla commissione europea e l'altro diciamo attore importante è il beneficiario del progetto cioè i beneficiari dei progetti che tra di loro costituiscono un partenariato presentano la proposta di progetto alla commissione e poi la commissione valuta direttamente se finanziare o meno quella proposta di progetto qual è il vero obiettivo l'obiettivo dei finanziamenti diretti è quello di far cooperare tra di loro le regioni europee perché se ci dobbiamo considerare Europa dobbiamo fare in modo anche che le regioni sappiano tra di loro collaborare e in un certo senso anche scambiare delle buone prassi per esempio quando si presentano ma di questo poi ne parlerete in maniera più dettagliata quando seguirete l'intervento di Raffaella Scordino una delle cose che chiede la Commissione Europea è di coinvolgere tra i partner i paesi che sono considerati più avanzati con paesi che sono considerati meno avanzati in un certo settore faccio un esempio programma Life voglio presentare una proposta di progetto per avanzata per un sistema di riciclaggio dei rifiuti avanzati sarebbe bene avere nel partenariato il paese che fa un po' da guida in questo settore che però si trascina nel partenariato anche qualche paese che possiamo considerare destinatario dell'iniziativa quasi a voler trasferire ciò che c'è di buono nell'Europa a paesi che chiaramente sono un po' più di ritardo lo spirito europeo dovrebbe essere proprio questo cioè quello di aiutarci per progredire tutti insieme e creare un continente un'unione che sia effettivamente all'avanguardia per quanto riguarda invece la gestione in diretta lo dicevamo prima l'obiettivo è quello di ridurre il divario tra le regioni europee e quindi cercare di avere questi trasferimenti di risorse a livello nazionale da poter poi distribuire in maniera equa sui territori e poter aiutare maggiormente quelle regioni che sono in ritardo di sviluppo il trasferimento quindi avviene ad enti nazionali o regionali siamo quasi sempre in presenza di un cofinanziamento governativo e chiaramente l'assegnazione delle risorse avviene sulla base dei bandi i bandi dove li troviamo i bandi li troviamo o sui siti delle regioni se andiamo sul sito Fondo Europeo di Sviluppo Regionale o Fondo Sociale Europeo oppure su quelli nazionali se si tratta di programmi operativi nazionali poi invece vedremo dove troviamo le informazioni relativi alla gestione diretta perché la gestione diretta ora ha tutto un portale dedicato a sé dove si può trovare tutta l'informazione ma questo lo vediamo a breve perché appunto ci stiamo arrivando io vi devo chiedere scusa se per alcuni di voi questa lezione è anche un po' banale ma è una lezione che noi proponiamo ogni anno proprio perché vorremmo consentire a tutti di poterla seguire e in un certo senso arrivare a un livello di comprensione base che ci possa poi aiutare ad andare avanti nella presentazione di proposte di progetto così come abbiamo analogamente quello che abbiamo fatto prima con la politica di coesione anche qui voglio citarvi il regolamento dell'Unione Europea che dà la definizione di programma comunitario il programma comunitario fonte di finanziamento diretta può essere definito come azioni oppure come insieme di azioni o altra iniziativa comportanti una spesa che secondo l'atto di base o l'autorizzazione di bilancio relativi deve essere attuata dalla commissione a favore di una o più categorie di beneficiari specifici e questa è la definizione di programma comunitario secondo il regolamento cinquantotto del duemila e tre quindi che cos'è lo finanziamento comunitario diretto è uno strumento attraverso cui l'Unione Europea finanzia l'esecuzione di una serie di azioni per cercare di realizzare gli obiettivi che si è dato per quel determinato periodo di programmazione nelle diverse materie di sua competenza qual è la vera differenza con i fondi strutturali che mentre i fondi strutturali possono finanziare anche opere quindi ho un museo nella mia città e voglio ricorrere fondi strutturali attraverso la mia regione per rimetterlo in sesto perché poi ne voglio fare una casa sociale o una o qualsiasi altra cosa eh i fondi diretti non possono finanziare infrastrutture abbiamo solo un'eccezione nel programma Life che può finanziare infrastrutture ma sono in infrastrutture verdi tutti gli altri finanziamenti non prevedono opere infrastrutturali quindi questa è la eh diciamo la differenza sostanziale eh anche tra i due tipi di finanziamento quindi eh gli strumenti tematici non prevedono la realizzazione di opere a carattere strutturale ma la realizzazione di progetti innovativi che devono essere elaborati secondo il principio del partenariato quindi quello che vi dicevo prima bisogna costituire un partenariato internazionale per poter accedere a questi finanziamenti qual è l'iter dei programmi comunitari normalmente la commissione europea pubblica il regolamento di adozione del programma comunitario sulla gazzetta ufficiale dell'Unione Europea serie L che è la serie dedicata alla legislazione però poi il finanziamento vero e proprio viene eh gestito dalla direzione generale della commissione europea competente in quella materia che a volte come nel caso del programma orizzonte 20 che comporta più materie è gestita anche da più eh e diverse direzioni generali eh dove troviamo le informazioni relativi ai finanziamenti diretti eh ultimamente è stato creato un portale che si chiama funding and tenders portal che è il portale di riferimento per tutti i finanziamenti diretti comunitari tra un pochino lo vediamo quindi come dicevi dicevo noi dobbiamo aspettare la pubblicazione della decisione di adozione del programma sulla gazzetta ufficiale serie L poi per poter partecipare al per per poter presentare la proposta di progetto dobbiamo aspettare la pubblicazione dei bandi che in genere arriva in un secondo momento rispetto alla pubblicazione della decisione di adozione dello strumento finanziario i bandi vengono pubblicati sempre su questo eh portale you funding tender portal anche se alcuni programmi vengono anche pubblicati sulla gazzetta ufficiale eh dell'Unione Europea la serie C quella dedicata all'informazione e alla comunicazione e comunque informazione dei bandi viene anche data sul sito web delle direzioni generali che si occupano di quel finanziamento però ormai il nostro punto di riferimento se vogliamo presentare una proposta di progetto deve essere questo portale you funding tender portal che tra un pochino vedremo come vi dicevo poi per poter partecipare dobbiamo aspettare il bando dove ci viene detto qual è l'oggetto gli obiettivi quel bando a quale azione del programma fa riferimento quali sono i beneficiari e requisiti minimi per poter partecipare qual è la dotazione finanziaria ehm assegnata a quel bando e principalmente qual è la quota di cofinanziamento destinata ai partner del progetto perché una cosa che ho dimenticato di dirvi prima è che per presentare proposte di progetto nell'ambito degli strumenti tematici ehm bisogna prevedere una quota di cofinanziamento quindi una parte dei soldi viene messa dalla commissione europea un'altra parte dei soldi deve essere messa a disposizione eh dai partner del progetto nel bando vengono anche indicati quali sono i criteri di selezione delle proposte qual è la procedura per ehm per la presentazione della delle proposte e poi viene indicato eh il link dove si al portale EU funding e tender dove si possono trovare le ulteriori informazioni ma è anche il portale che poi ci dà la possibilità di presentare materialmente la proposta di progetto quindi come vi dicevo tutte queste informazioni formulari testo del bando le troviamo sul portale eh partecipanti ricordatevi una cosa che nel momento in cui noi vogliamo presentare una proposta dobbiamo effettuare un'analisi eh delle misure ammissibili perché non i bandi non si aprono sempre per tutte le misure previste dallo strumento finanziario ma solo per alcune di queste quindi verifichiamoli nel presentare una proposta di progetto cerchiamo di sottolineare qual è la dimensione europea e il carattere innovativo e trasnazionale della nostra proposta di progetto ricordatevi di rispettare sempre i criteri formali nella presentazione della proposta perché la nostra proposta viene prima esaminata per i criteri formali se non si supera questa prima fase non va neanche avanti anche se avete scritto la migliore proposta ma avete dimenticato di adempiere a quelli che sono i criteri formali la vostra proposta viene scartata senza neanche essere letta ricordatevi poi sempre di preparare una scheda di assuntiva in lingua inglese che vi è utile per presentare la vostra proposta di progetto ai partner dell'iniziativa e ricordatevi poi di rispettare le scadenze e gli orari che vengono indicati nel bando un altro consiglio di non aspettare l'ultimo giorno per caricare la proposta di progetto nell'ambito del portale perché siccome questi sono portali che vengono utilizzati da tutta Europa più delle volte ci possono essere problemi informatici quindi cercate di giocare sempre un pochino di anticipo vi faccio vedere questa slide questa slide probabilmente verrà ripresa poi da Raffaella Scordino nell'ultima lezione nel preparare una proposta di progetto ricordatevi di sottolineare alcune cose quindi la trasnazionalità del vostro progetto perché state chiedendo un finanziamento europeo state incoraggiando la mobilità geografica state cercando di coinvolgere paesi di altri stati membri innovazione la Commissione Europea vuole vedere proposte innovative che creino diciamo che propongano delle soluzioni nuove a dei problemi casomai anche vecchi e quindi cercate di fare emergere questo aspetto dell'innovazione nel momento in cui andate a presentare la vostra proposta di progetto ricordatevi anche di sottolineare in un certo senso qual è il valore aggiunto europeo del progetto qual è il contributo che va a dare al territorio europeo e un'altra cosa importante è il principio di sussidiarietà cioè voi state chiedendo un finanziamento all'Europa perché la vostra idea è un'idea europea e quindi non trova riscontro in quelle che possono essere delle risorse nazionali o regionali una cosa molto importante è indicare la sostenibilità nel momento in cui presentate una proposta di progetto dovete anche cercare di far capire alla Commissione Europea che cosa succede nel momento in cui il progetto finisce perché in passato cosa succedeva che questi progetti venivano finanziati dall'Unione Europea e morivano con la fine del finanziamento la Commissione Europea non vuole più diciamo vedere morire questi progetti quindi voi dovete indicare nella proposta di progetto in che modo avete intenzione di far sopravvivere il progetto alla fine del finanziamento poi ricordatevi che attualmente un altro tema importante è quello dell'interesse comunitario e trasparenza cioè vi dovete garantire che i dati siano poi i partner siano consienti nel darvi l'autorizzazione alla pubblicazione dei loro dati perché i dati relativi ai beneficiari dei progetti devono essere resi pubblici sul sito della Commissione un altro aspetto molto importante che è diventato proprio diciamo un must del periodo 2021-2027 è quello di cercare di preparare un buon piano di comunicazione sul progetto perché un altro dei problemi che si è avuto in passato è che le proposte di progetti che i progetti che venivano finanziati poi alla fine non venivano conosciuti dalla popolazione e siccome noi cittadini siamo i principali contributori del sistema Europa è anche giusto che noi sappiamo come vengono utilizzati questi progetti e quindi è importante preparare dei piani di comunicazione in cui noi diciamo comunichiamo alla Commissione Europea in che modo intendiamo dare visibilità a questi progetti che vengono finanziati sul nostro territorio per poter dare attuazione ai programmi e derogare i finanziamenti le direzioni generali della Commissione Europea prevedono vari tipi di finanziamento e qui parliamo di sovvenzioni prestiti garanzie contributi e premi per quanto riguarda la sovvenzione che sarebbe appunto quello che noi banalmente troviamo sulla Gazzetta Ufficiale l'invito a presentare proposte in realtà possiamo dire che questa ha come obiettivo quello di soddisfare un'esigenza con un approccio dal basso nel senso siamo noi che diciamo alla Commissione Europea rispetto agli obiettivi che questa si è previstata qual è la proposta che noi vogliamo fare quindi si parla di una proposta dal basso perché sono i partner del progetto che propongono alla Commissione una soluzione quindi si può anche dire che ha un mandato istituzionale quali sono i criteri che dobbiamo presentare una buona qualità della proposta l'aspetto finanziario conta poco perché la Commissione Europea non vuole tanto sapere se la tua proposta economica è migliore di un'altra perché le proposte non sono comparabili vuole solo sapere che la proposta economica che stai facendo sia congrua con il tipo di azioni che noi stiamo proponendo e poi siamo sempre di fronte al cofinanziamento come vi dicevo prima si tratta di un contributo che viene da una parte dalla Commissione Europea e da una parte viene messo a disposizione dei partner negli inviti a presentare proposte viene sempre indicato qual è la quota di cofinanziamento da parte della Commissione Europea ricordatevi che potete utilizzare anche degli sponsor per il cofinanziamento delle azioni basta indicarli e solitamente chiedere anche alla Commissione Europea la possibilità di utilizzarli chiedo scusa la Commissione utilizza due tipi di sovvenzioni che sono le sovvenzioni a favore di azioni specifiche che vengono implementate da soggetti pubblici e privati e si tratta di progetti che vengono presentati nell'ambito di programmi tematici o settoriali e questi in genere contribuiscono a realizzare un obiettivo generale nell'ambito di una politica specifica dell'Unione Europea e poi invece abbiamo le sovvenzioni di funzionamento queste sono invece delle sovvenzioni che forniscono sostegno finanziario a delle attività che vengono considerate abituali o permanenti di alcuni organismi o associazioni europei che hanno come obiettivo quello di operare nel settore della rappresentatività a livello europeo in questo caso il sostegno finanziario si concretizza in costi per il personale in costi per pubblicazioni oppure per azioni di informazione e divulgazione oppure per viaggi del personale che in qualche modo è coinvolto in questi enti poi abbiamo la gara di appalto la gara di appalto è la gara di appalto comune che noi utilizziamo anche a livello nazionale dove si mira a soddisfare un preciso e puntuale interesse della commissione quindi non si parla più di un approccio dal basso ma è piuttosto di un approccio dall'alto cioè la commissione europea che dice io voglio la fornitura di questi di queste apparecchiature per questo paese infatti si utilizza la gara di appalto principalmente per quelli che sono i sistemi di finanziamento dell'assistenza esterna quasi sempre hanno un fine commerciale e chiaramente i criteri per la giudicazione della proposta quali sono? ci deve essere sì una buona qualità della proposta ma a questo punto vale l'offerta economica quindi vince la miglior proposta al miglior prezzo però nel caso della gara di appalto noi abbiamo un finanziamento al cento per cento e chiaramente i beneficiari vengono selezionati attraverso la partecipazione agli inviti a presentare offerte quindi call for tenders quando vediamo i call for proposals sono le sovvenzioni quando invece vediamo i call for tenders noi in realtà visualizziamo le gare di appalto spero che tutti questi concetti siano chiari altrimenti poi vediamo scriveteci vediamo di poterli chiarire chiaramente attraverso le gare di appalto la commissione chiede interventi per la fornitura di beni e servizi oppure per l'esecuzione di lavori e vi ripeto è uno strumento che viene molto utilizzato per l'assistenza esterna ma non solo a volte anche nell'ambito dei finanziamenti degli strumenti tematici come il programma Life come il programma Orizzonte poi abbiamo ulteriori strumenti che sono quelli delle prestiti garanzia alle piccole e medie imprese e il finanziamento del capitale di rischio questi provengono dal bilancio comunitario e vengono gestiti attraverso la Banca Europea degli Investimenti che è un'istituzione finanziaria dell'Unione Europea oppure dal Fondo Europeo degli Investimenti che è appunto l'organismo della Banca Europea degli Investimenti che è proprio specializzato nel capitale di rischio questi tipi di finanziamenti sono erogati tramite gli intermediari finanziari che a livello nazionale sono le banche poi vi faccio vedere ora che andiamo avanti dove troviamo queste informazioni in più abbiamo i contributi dell'Unione Europea che sono finanziamenti che sono destinate alle start up agli imprenditori con età inferiore ai 35 anni ma anche alle imprese che operano in territori svantaggiati si tratta questi sempre di contributi a fondo perduto e questi vengono gestiti indirettamente dalla Commissione perché essenzialmente i contributi vengono erogati nell'ambito dei finanziamenti gestiti a livello nazionale o regionali e poi ci sono i premi questi sono delle ricompense per i vincitori di concorso come per esempio alcuni premi vengono istituiti nell'ambito del programma Europa Creativa che per esempio conferisce i premi per promuovere riconoscere siti di particolare interesse storico oppure opere di valore e così via ecco qui dove troviamo le informazioni queste slide verranno pubblicate sulla pagina dell'evento quindi tutti questi preziosi link potete scaricarvi questa presentazione e quindi avere tutti i link i sovvenzioni ai premi come vi dicevo li troviamo sui programmi di lavoro dei singoli strumenti finanziari i suoi siti delle direzioni generali della commissione europea e il supportale dei partecipanti per quanto riguarda le gare di appalto queste le troviamo o nella banca dati TED che è la banca dati che contiene la gazzetta ufficiale dell'Unione Europea serie S che sarebbe il supplemento che contiene le gare di appalto non solo quelle europee ma anche tutte le gare di appalto europee pubblicate dagli stati membri il cui valore superi i duecentocinquanta mila euro perché quando si superano i duecentocinquanta mila euro scatta l'obbligo di pubblicazione della gara di appalto nella gazzetta ufficiale della commissione europea serie S poi per quanto riguarda invece i contributi le informazioni le troviamo sui siti delle regioni appunto su piani operativi regionali o programmi operativi nazionali per quanto invece riguarda alcuni strumenti finanziari per le piccole e medie imprese tipo InvestEU abbiamo questo sito che si chiama Your Europe la tua Europa dove ha due sezioni una dedicata ai cittadini e una dedicata alle imprese nella sezione delle imprese possiamo tramite la sezione dedicata a cedere ai finanziamenti si accede alle pagine che danno le informazioni sugli intermediari finanziari a livello nazionale non vi spaventate perché ora tutto questo lo vediamo molto velocemente li vediamo questa è la gazzetta ufficiale dell'Unione Europea così come si viene diciamo visualizzata sulla parte sinistra vedete la serie legislazione sulla parte destra la serie C che è quella dedicata alla comunicazione informazioni quindi sulla legislazione per esempio noi troviamo il regolamento di adozione degli strumenti finanziari nella parte comunicazione informazioni a volte possiamo trovare anche i bandi questo è un esempio di un regolamento che istituisce un programma comunitario in questo caso parliamo del programma dogana che appunto permette la cooperazione del settore doganale in Europa questo invece è un esempio di un invito a presentare proposte che è stato pubblicato sulla gazzetta ufficiale della Commissione Europea però come vi dicevo prima non c'è più l'obbligatorietà per le direzioni generali di pubblicare i bandi sulla gazzetta quindi andate sempre a guardare il portale per i partecipanti che ora vediamo questa invece è l'home page della banca dati TED dove voi potete trovare tutte le gare di appalto qui bisogna selezionare i filtri quindi a quale paese siete interessato a che tipo di fornitura o a che tipo di servizio dopodiché vi appare l'elenco delle gare di appalto alle quali siete interessati un altro sito che io vi consiglio perché è molto utile è il servizio stampa della Commissione Europea qui ogni giorno vengono pubblicati tutte quelle che sono le novità della giornata e a volte ci sono anche delle anticipazioni su bandi che vengono pubblicati su nuovi strumenti finanziari su nuovi soldi che vengono stanziati nell'ambito di alcune politiche della Commissione Europea io è uno dei siti che controllo ogni giorno e normalmente quello che faccio e poi estrapolo la notizia la tweet per renderla poi disponibile almeno per quelle più importanti per renderle disponibili tramite Twitter al grande pubblico questo è il portale dei partecipanti come vedete in alto c'è questa search funding and tenders questo bottoncino evidenziato in giallo dopo che vi appagliano questi due pulsanti uno è per i grants e uno per i tenders quindi uno per le sovvenzioni e uno per le gare di appalto dopo che potete scegliere se volete quelli che sono in fase di programmazione quelle che sono già aperte oppure quelle che sono chiuse se togliete la soluzione la selezione da quelle che sono chiuse avete realmente lo stato di quelle che sono aperte dopo che potete scegliere qual è il periodo di programmazione nel programming period e chiaramente voi selezionerete l'ultimo duemila e ventuno duemila e ventisette e poi ancora sotto filter pipe program potete scegliere lo strumento tematico a cui siete interessati a quel punto lì vi appare l'elenco di tutte di tutti i bandi qui forse un po' più grande lo vedete meglio come vedete vi ho fatto una piccola selezione che vedete evidenziata in rosso vedete che c'è questo search funding and tenders dopodiché ancora abbiamo grants and tenders la selezione e in questo caso qui avevo scelto il programma CERV che è appunto il programma che presenteremo la prossima settimana e come vedete queste sono i bandi attualmente aperti per il il programma CERV anzi se posso consigliarvi perché per coloro che sono interessati a partecipare anche la prossima settimana di fare proprio un'esercitazione così se avete delle domande potete rivolgerle al punto di contatto nazionale la prossima settimana io vedo che il tempo sta finendo cerco di andare un po' veloce abbiamo poi la pagina dei dipartimenti e delle agenzie esecutive della commissione europea che pure potete consultare questo è il sito della commissione europea la rappresentanza in Italia dove pure potete trovare le informazioni sui finanziamenti degli appalti il vantaggio è che tutto in lingua italiana come vedete abbiamo una sezione questo è sempre il sito della rappresentanza in Italia della commissione europea dedicata specificamente alle imprese e ai finanziamenti e questo è il portale la tua Europa questo ho selezionato per voi il portale dedicato alle imprese come vedete nell'evidenziato con il cursore rosso c'è la parte relativa ai fondi finanziamenti dove potete trovare la guida pratica a fare imprese in Europa e qui trovate tutte le informazioni che vi possono essere utili questo invece è il sito della commissione europea della politica di coesione dove attraverso questa mappa potete accedere alle informazioni sui fondi strutturali e tutta in Europa e anche qui vi ho evidenziato in rosso su come ottenere finanziamenti chiedo scusa questo non è open questione stiamo ancora nella tua Europa e come vedete questo è il percorso che bisogna fare per accedere alle informazioni quindi andate su finanziamenti diretti poi c'è anche la parte dedicata ai finanziamenti indiretti e in più c'è la possibilità appunto di leggere qualche informazione in più su come si chiede un finanziamento poi abbiamo perché molti di voi ci chiedono informazioni sul PNRR il sito ufficiale di informazione sul PNRR in Italia è Italia Domani che appunto si occupa del piano nazionale di ripresa e resilienza quindi trovate tutta l'informazione a livello nazionale e come vedete potete trovare poi anche i bandi e gli avvisi delle amministrazioni titolari e i bandi e gli avvisi dei soggetti attuatori però attualmente le regioni si stanno organizzando per dare l'informazione sui propri siti regionali queste sono le informazioni delle regioni che finora hanno già organizzato i siti per il PNRR a livello regionale questo invece che vedete ora è il sito inforeggio della Commissione Europea che dà l'informazione sui fondi strutturali in tutta Europa e poi questo che vedete ora invece è il sito International Partnerships questo è il sito dell'Unione Europea che dà informazioni su quelli che sono gli strumenti finanziari per poter collaborare con i paesi terzi quindi con i paesi che non fanno parte dell'Unione Europea questo è il nostro sito Europa come vedete noi abbiamo una newsletter mensile alla quale vi potete iscrivere tra l'altro se vi iscrivete noi vi mandiamo anche tutti gli inviti alle attività che organizziamo di volta in volta abbiamo sulla parte nel box in basso a destra evidenziato sempre col cursore rosso le banche dati che sono quelle dei programmi comunitari ma anche la banca dati degli eventi quindi tutte le giornate informative che vengono organizzate in Italia e di cui ci danno chiaramente notizia e anche abbiamo la pagina dedicata ai bandi ehm e scadenza eh analogamente abbiamo il focus web programmi comunitari che è un focus web dedicato interamente ai finanziamenti diretti dove noi appunto continuamente l'aggiorniamo con le ultime nonitizie e gli ultimi bandi questa è la banca dati programmi comunitari sempre del nostro sito dove potete trovare le schede in lingua italiana di tutti gli strumenti finanziari diretti e in ogni scheda trovate anche i bandi relativi a quello strumento finanziario e poi abbiamo la banca dati bandi che è la banca dati che eh dove noi inseriamo i bandi di tutti gli strumenti finanziari diretti che voi potete consultare per data di scadenza partendo da quelle più recenti eh via via ad arrivare quelle sempre più lontane tenete presente che noi abbiamo già date di scadenza per il duemila e ventiquattro poi abbiamo un focus web dedicato interamente all'innovazione eh digitale che appunto si chiama igov.formance.it dove invece trovate le informazioni dell'Europa però inerenti eh all'innovazione digitale eh ho finito la mia presentazione scusate se sono andata un po' veloce ma le cose da dire erano tantissime eh forse sono anche un po' in ritardo no forse di un minuto non so se abbiamo tempo per qualche domanda intanto interrompo eh la presentazione grazie Claudia le domande non ci sono nel senso che prontamente la collega Raffaella ha risposto alle domande volevo semplicemente ribadire che le slide con le informazioni link e la registrazione saranno presenti sul sito di Formez sulla pagina della lezione perfetto io vi ringrazio chiaramente noi siamo sempre a disposizione a vostra disposizione per rispondere alle vostre domande anche diciamo fuori webinar perché fa parte del nostro servizio di informazione sui bandi tra qualche giorno pubblicheremo la videoregistrazione con tutte le slide sul sito web riceverete da parte del nostro staff una mail dicendo che potete scaricare l'attestato di iscrizione dopodiché potete compilare il questionario di valutazione e scaricare l'attestato buona giornata a tutti e buon lavoro grazie arrivederci grazie a tutti grazie anche a tutti gli staff dello Europe Direct che stanno lavorando a questo ciclo grazie Claudia sei stata bravissima grazie a presto ciao a tutti grazie a tutti